La coalizione uscente che si ripresenta con le primarie tra cinque candidati al primo turno e adesso due al secondo turno. Siccome c'era lo sbarramento del 50%, nessun candidato era superato e si va al ballottaggio. Ballottaggio 24 di marzo tra lei e Luca Ghezzi, corretto? Esatto, sì, perfetto. Siete, come si è detto in questo ultimo periodo elettorale, sul filo, 35,7 e lego 37,8. Sì, 70 voti di differenza. Esatto. Beh, vinca il migliore e in bocca al lupo. Ancora una settimana impegnativa. Di campagna, certo. Io spero che si riconfermi comunque il risultato di partecipazione. Assolutamente sì, perché ricordiamo che stiamo parlando di primarie e poi dopo ovviamente le comunali saranno a maggio. No, chiunque esca da questo risultato, più la partecipazione è alta, più comunque sarà un sindaco rafforzato dal mandato dei cittadini. Quindi devo dire ancora più consapevole nel proprio ruolo. Ecco, questa è la voce di Siria Trezzi al ballottaggio per le comunali di Cinisello Balsamo, per le primarie, quelle che saranno le comunali di Cinisello Balsamo, il 24 marzo. E per Parcondicio anche l'altra persona. Buonasera, grazie Siria. Luca Ghezzi, benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Abbiamo anticipato con Siria la componente Siria Trezzi di questo importante appuntamento. Una grande partecipazione. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, così così, proviamo, prego. Mi sente? Sì. Mi sente? Sì, prego. Sì, una grande partecipazione e non rispettiamo il risultato del genere. Per me, per me, la persona è in fila ancora stare... Purtroppo, Ghezzi, vediamo se riusciamo al prossimo blocco a risentirla. Ricordiamo che Ghezzi è l'altro candidato al ballottaggio del 24 marzo per le primarie di centro-sinistra. Le comunali sono quelle di Cinisello Balsamo e Ghezzi è anche il vice sindaco uscendo. Vediamo se riusciamo magari tra un attimo. Torniamo in studio, torniamo a parlare di queste ultime due elezioni. Sentiamo la voce di Giuliana Carlino dell'IDV. Come ha vissuto questa situazione e come la vede, soprattutto anche delle reazioni del giorno dopo. Un PDL che dice, appunto, se anche il Colle sarà a sinistra, daremo battaglia ovunque. E' un grillo che frena sull'espulsione dei dissidenti, ma ha comunque messo giù in maniera pesante questi 12 senatori, peraltro dove lei era, quindi il Senato, che ha tradito quella che era la regola d'insieme del Movimento 5 Stelle. Allora, noi dell'Italia dei Valori, come i cittadini sanno, non siamo in questa tornata parlamentare, non siamo stati eletti perché ci sono stati degli errori sia da parte nostra ma anche del PD, penso, perché noi di fatto siamo in Italia, in tutti i comuni, province, in tante regioni, in coalizione, e abbiamo lavorato sempre bene col centro-sinistra. Lei si era ricandidata con Rivoluzione Civile, quindi in Groia, certo, questo è importante. Non c'è stata la possibilità in queste elezioni di formare la coalizione con il PD, perché Bersani non l'ha voluta, non ha voluto, diciamo, questo nostro progetto che potesse continuare, e quindi noi ci siamo imbarcati nell'esperienza di Rivoluzione Civile, che i cittadini però hanno respinto, non abbiamo raggiunto il cuore nemmeno alla Camera. Una sinistra che si è molto spaccata però. Si è molto spaccata, sì, perché il problema è questo. È stata una coalizione formata a parte in pochi giorni, fine dicembre è nata, non c'è stato quel tempo per farla conoscere ai cittadini, questo è il primo errore. Secondo, è stata, diciamo, fatta apposta soltanto per le elezioni, e i cittadini non l'hanno compresa, perché non hanno riconosciuto questa coalizione nata lì per lì con tutte le forze non presenti in Parlamento e soprattutto quelle dell'Italia dei Valori, non l'hanno condivisa, non l'hanno accettata, tanto che devo dire che la maggioranza degli stessi nostri iscritti hanno optato in questa elezione non a votare Rivoluzione Civile, abbiamo sperimentato, ma hanno optato più per il voto utile, temendo che Berlusconi potesse vincere, visto che stava risalendo, poiché si diceva che noi non avremmo raggiunto il quorum al Senato, quindi hanno optato proprio per il voto utile o al PD o addirittura al Movimento 5 Stelle, tanti dei nostri hanno votato proprio come ribellione il Movimento 5 Stelle. Pazienza, è andata così. Bersani è stato molto egoista perché pensava di aver tutto in mano, di essere autosufficiente, ci ha scaricati, adesso sta pagando però il risuoio anche perché si ritrova in una palude e come diceva la collega, se vogliamo il bene del Paese in questo momento dovrebbero almeno tentare di fare qualcosa unitario per o cambiare la legge elettorale che è quella che non dà... Cioè fare almeno il primo passo insieme, certo. Le cose minime che il Paese ha bisogno e poi magari tornare al voto perché in questo modo non credo che possano reggere 5 anni se non sono autosufficiente. Non sono autosufficiente, non ce la faranno. Tra poco torniamo a parlare anche di quelle urgenze che lei ha lasciato, no? Eh, le urgenze sono tantissime. Eh, del lavoro, pensioni, legge fornero. Mi dia solamente il tempo di dare un paio di minuti la parola a Ghezzi perché prima davvero non si sentiva. Buonasera Luca, ora ci sentiamo, proviamo. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, proviamo. Allora dicevo, vice-sintacusciente, ballottaggio il 24 marzo insieme a Siria Trezzi per queste primarie. Sì. Com'è andata questa prima tornata? No, è andata benissimo, nel senso che è un grande risultato in termini di partecipazione da parte dei cittadini di Cisano Bassi, no, più o meno lo stesso numero delle primarie di Versani Renzi per cui possiamo essere soddisfatti. Certo, siamo in comune 73 mila di tanti, siamo anche a votare 3 mila persone, quindi devo dire che una fetta minima può condizionare l'edito di una torre elettorale. È anche vero che forse è il meglio di una decisione appresa nelle segreste stanze di una direzione di partita, quindi rispetto agli anni precedenti abbiamo fatto un passo avanti. Ho sentito Siria Trezzi prima, concordo anche sul fatto che il candidato Cisano potrebbe riuscire a vincere, ma l'ultima è stata un candidato più forte perché è sostenuto comunque da una discreta platea di Cisano Bassi. Quindi, Gezzi, noi come abbiamo fatto con Trezzi, le facciamo in bocca al lupo e diciamo che la vittoria nei termini in cui ci avete spiegato c'è già stata. Insomma, con la partecipazione della gente. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, grazie. Allora, torniamo in studio. Ecco, non volevo togliere la parola. Dicevo, Carlino, lei si è tanto battuta proprio... Per i temi del lavoro. Perché sappiamo della vera emergenza del nostro paese. E noi, infatti, i problemi con il PD sono scatoliti proprio da questo. Perché noi abbiamo fatto un'estrema, un'etenace opposizione prima al berlusconismo e ultimamente, nell'ultimo anno, al montismo. Siamo stati quelli che davvero hanno... Ci siamo battuti. Io sono stata relatrice di minoranza per la riforma Fornero, insomma, con proposte serie, perché volevamo qualcosa di diverso. perché credevamo che questa riforma non avrebbe portato un rinnovamento del nostro paese e l'emergenza al lavoro non è stata risolta come noi temevamo, perché volevamo qualcosa in più. E infatti, qui si è pensato soltanto come licenziare, come... con l'articolo 18, ma non si è pensato a far crescere i posti di lavoro, a farli nascere, soprattutto. E l'emergenza è proprio quella. Perché se non diamo una mano alle imprese perché possano creare lavoro, non andiamo a capo. Lo diceva anche lei, è un'emergenza del paese. Speriamo che si trovi la soluzione con questo governo. Sarà difficile. Ecco, non mi sembra che ci siano stati, certo, i presupposti per questi tre blocchi, grossi blocchi, che non ci si aspettava si siano poi formati, che rappresentano tante persone. Cioè, questi tre blocchi dietro hanno tante schede, hanno tante X che sono state messe da liberi cittadini che hanno diritto di essere rappresentati da tutte le parti. Quindi il rispetto dell'opposizione, della maggioranza dei vari partiti vuol dire il rispetto di questi numeri, di queste persone che sono state elette. Però non mi sembra che ci siano i presupposti nel dialogo o nel confronto né dal Movimento 5 Stelle e neanche da un ponte che si è tentato di fare, il famoso governissimo, che probabilmente non avrebbe funzionato, forse ha ragione Bersani. Ma io credo... Non lo so, qui lo volevo chiedere prego e poi voglio sentire centena. Prego. Secondo me Bersani non può coalizzarsi col PDL. Certo, certo, ma nessuno gli chiedeva questo. Né con Monti né col PDL. Ma credo che neanche il PDL col PD, cioè voglio dire, nessuno credo chiedeva questo, ma si chiedeva di iniziare a fare qualcosa. Ma tornare alla situazione dell'anno scorso, per il PD sarebbe stato l'Eterio, perché i cittadini non l'hanno condivisa la scelta di formare quel governo tecnico dell'anno scorso. Forse quante volte si mangerà le mani Bersani, ma lo stesso Napolitano che ha voluto questo governissimo, diciamo... È d'accordo sul fatto che la terza poltrona, visto che lei è fuori in questo momento, non deve essere...